ciao massardi allora massardi come andiamo oggi uno dei primi video così ma oggi partiamo a bomba oggi se sto passando più a destra più a destra oggi partiamo con le gambe vi faccio vedere il programma giorno 2 stiamo con uno squat e 4 per 8 un secondo di isometria un minuto e 15 di pausa domenica passiamo agli affondi camminati zig zag 5 per 6 per gamba poi passiamo agli stacchi semitesi 5 per 10 con 50 secondi di pausa dopodiché la morte la morte mi hai sentito la morte 2 per tempo massimo sedia muro dopodiché io purtroppo ho i gomiti un po malandrati quindi faccio solo una super serie di tricipiti e via dopodiché godetevi questo fighissimo allenamento buon ball throttle drinking alcohol yeah straight from the nozzle end of the night end up porzano they know they want something more they know they want something more they've never heard us before they've never heard us before a sound that's hard to ignore a sound that's hard to ignore it's time to even score oh oh hey rock e roll in the lake ok 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 Non è vero, non è vero, non è vero. 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 Non è vero.